Io credo che noi dopo 4 marzo dovremmo ricordarci che siamo una forza di governo e che senza partito democratico il periodo democratico può aiutare molto alla democraticità del governo in Italia. Per essere forza di governo che governa ci vuole forza politica, la forza politica la danno i voti, ecco perché serve assolutamente votare.